Grazie. Grazie a conoscere ai nostri colleghi la persona di Rossella Valdreck, peraltro ha contribuito già dall'anno scorso a questi seminari freudiani sulla teoria psicoanalitica e il cinema. Un'accoppiata vincente che è servita a declinare la teoria freudiana con delle pellicole scelte da Rossella attinenti a determinati temi psicoanalitici. Questa accoppiata ha determinato una combinazione molto fertile attraverso la quale dei temi psicoanalitici anche abbastanza ostici alcuni di questi. Quello di stasera per esempio è uno di questi, secondo me, che parleremo di paranoia, in una maniera abbastanza facile, con un linguaggio che spiega bene quello che è il tema del film. Si collega molto bene con la teoria freudiana. Quindi intanto ringraziamo Rossella Valdreck che sempre sceglie dei film effettivamente molto accurati e che sono mirati al tema teorico, alla teoria che vogliamo affrontare. E poi come sempre, adesso passo la parola a lei perché non voglio anticipare niente ovviamente sul caso del presidente Schereber, dopo vedremo il film e dopo al solito ci sarà il dibattito fra tutti quanti. Quindi passo la parola a Rossella e buon pomeriggio a tutti. Va bene, grazie Donatella. Vedo che siamo un gruppo stabile, sempre 40 persone, 40 amici, è molto piacevole. Dunque, quest'oggi discutiamo, il testo principale è osservazioni su un caso di paranoia, il presidente Schereber del 1910, anche associato a un altro breve testo, il tema è la psicosi. Ecco, oggi diciamo anche il film parla di un caso importante di psicosi. L'altro breve testo è l'aperta di realtà nella psicosi e nella nevrosi del 24. Dirò qualcosa anche su un altro testo di Freud del 15, che apparentemente non c'entra niente con la psicosi, ma il film un po' lo richiama, quindi lo dirò soltanto, lo nominerò soltanto a proposito di un aspetto che nel film però è importante, che è psicologia della vita amorosa. Si completa questa riflessione con il testo visto la volta scorsa, l'ascissione dell'io, perché diciamo che il testo di oggi tratta eminentemente la paranoia, però la psicosi nel suo insieme comporta anche l'ascissione dell'io che abbiamo visto nel testo del 38 dell'altra volta, anche se l'abbiamo poi rappresentata in un altro film che si prestava l'avversario. Però la mente è una sola, noi arbitrariamente la spezzettiamo un po' in argomenti, però poi la mente è una sola. Dunque, il famoso caso del presidente Schreber, il primo paziente psicanalitico della psicanalisi, diciamo, paziente come sapete benissimo non trattato personalmente, ma letto in un memoriale, un po' come Hans, che non fu un'analisi diretta, ma raccontata dal padre. Quindi, se vogliamo, la psicanalisi infantile e la psicanalisi delle psicosi sono nate sempre da Freud, poi portate avanti dai post-freudiani, ma sono nate in maniera indiretta, tutto sommato. L'epoca. L'epoca è abbastanza importante perché il 1910 è un periodo molto fertile per lo studio della psicosi, tutto sommato più fertile di oggi, dove la psichiatria è in qualche modo ferma a scoperte di psicofarmacologia. Ecco, ai farmaci non c'è una vivacità psichiatrica come c'era a quei tempi. C'era stato nel 1893 Krappelin, con il suo manuale sulle malattie mentali, che i DSM hanno molto ripreso, sono accusati infatti di un certo neocrappelinismo, e c'era stato soprattutto Bloiler nel 1909, quindi proprio contemporaneo di Freud, l'abbiamo visto anche nel primo film che abbiamo percorso, il primissimo Dangerous Method, quello con Jung, c'era anche Bloiler in quel film lì, e Bloiler è quello a cui si deve il termine schizofrenia. Quella che incontriamo nel film è una schizofrenia di tipo non paranoide, in senso come Schreber, è una schizofrenia che si chiamava simplex, oggi si chiamano indifferenziate, più grave, con maggior impoverimento della personalità. Quindi fino ad allora la schizofrenia si chiamava, e i termini sono importanti, perché siamo esseri di linguaggio, come dice Lacan, siamo parlesseri, quindi come chiamiamo le cose è molto importante. Si chiamava demensia precox, con Bloiler si chiama schizofrenia, quindi dando l'idea proprio intrinseca della patologia, dove l'io si scinde e quindi cambia l'idea proprio del paziente schizofrenico che non è soggetto a una, non è un demente, non è soggetto a una degenerazione, non è uno stupido, ma è qualche d'uno al cui interno avviene una scissione. Quindi siamo appunto in anni molto fertili di curiosità e interessamento verso la psicosi. Freud è ancora amico di Jung, è ancora in contatto con Jung, che è quello che gli dà un anno prima, nel 1909, il memoriale. È Jung che glielo fa conoscere. La loro amicizia si romperà di lì a poco. Freud con grandissimo interesse prende questo memoriale, se lo porta a Palermo, sta per andare in vacanza a Palermo, quando ha questi malloppi, Freud se li porta da qualche parte in vacanza, va con Ferenzi in questo viaggio, fa un tentativo di collaborazione con Ferenzi, con la sua modalità sempre un po' da padre, dice a Ferenzi, fai questo, scrivi quest'altro. Ferenzi, come è noto nella storia della psicanalisi, rifiuta questa posizione un po' passiva, diciamo, e Freud procederà da solo nella lettura di questo memoriale scritto nel 1903 dal giudice Schreber e che quindi arriva nelle mani di Freud un po' di anni dopo. Il giudice morirà un anno dopo la lettura del memoriale. Credo, a quanto ne so, che non fece in tempo a leggere il lavoro di Freud, che avrebbe, vista la sua intelligenza, sicuramente apprezzato, lo avrebbe interessato, ma era molto malato e è morto nel 1911. C'era stato quindi Breuler, contemporaneo, con i suoi studi sulla schizofrenia, studi descrittivi, ecco, semiotici, non psicoanalitici. Freud è il primo a cercare una spiegazione a questo delirio. E c'era stato Tausk un anno prima, nel 1909, con un lavoro di un certo interesse che non lascerà grande seguito, che è la macchina influenzatrice. Tausk probabilmente a sua volta psicotico perché morirà a suicida poco dopo. Questo è un po' il clima storico in cui Freud si appresta a leggere questo lavoro, appunto, con grande interesse. È da dire che, come per l'ultima linconia, il meccanismo della paranoia l'aveva già intuito, è già scritto nelle minute a Fliss del 1995, che sono interessantissime, perché in queste minute, nello scambio con l'amico Fliss, ci sono già un sacco di intuizioni straordinarie che Freud ha avuto, così come ce n'è una su l'ultima linconia, in cui aveva intuito il meccanismo fondamentale di lutto e malinconia, cioè l'identificazione con l'oggetto perduto che viene introiettato e contro cui l'io saccanisce. qui, per la paranoia, ugualmente in una minuta aveva intuito il meccanismo alla base, che è la proiezione. Andiamo con ordine. Allora, la storia di Schreber. Schreber è un giudice molto facoltoso, di una cinquantina d'anni, all'epoca in cui scrive il memoriale, nel 1903, quindi è nato nella prima metà dell'Ottocento. Figlio di un severissimo e noto pedagogo. All'epoca la pedagogia era una materia, una scienza tenuta in alta considerazione, una materia un po' così, un po' squalificata, ecco, nell'ambito sociale. All'epoca non era così. Quindi è figlio di un giudice di Dresda molto, molto famoso e importante. Figlio di un notissimo pedagogo che aveva pubblicato libri molto importanti, che avevano avuto grande diffusione nella comunità su come si allevavano i bambini, molto severo. Freud legge pagine di questo padre di Schreber su come si dovevano pulire i bambini, raccogliere le punizioni. Questo lo dico perché questi dettagli che oggi sembrano traumatici, all'epoca no. All'epoca era normale trattare i bambini così nell'alta borghesia, quindi sono cose che oggi trattiamo come, appunto, come traumatiche. Questi dettagli poi entreranno nel delirio di Schreber, no? Nel delirio c'è sempre un nucleo di verità. E c'è un fratello in famiglia che morirà a suicida. Quindi parliamo di un nucleo familiare comunque con elementi, appunto, che oggi diremmo traumatici. Schreber ha una prima crisi in cui si ammala, sta male, e viene ricoverato in questa prima crisi. È scatenata, scrive il suo memoriale, appunto, molto dettagliato, quindi è molto prezioso questo materiale perché è scritto di pugno dal malato, peraltro come nel nostro film di oggi, film squisito, un capolavoro, dove il protagonista, questo Glenn, detto Spider, che non è lucido e intelligente, colpo come il giudice, però tenta di narrarsi, di auto-narrarsi, scrivendo la sua storia. Questo soggetto, questo protagonista, ricoverato anche lui in un manicomio, perché anche lì, anche nel film, siamo in epoca pre-farmacologica, anni 50, e quindi si ha l'opportunità di vedere deliri che oggi non vediamo più. Oggi sarebbe impossibile leggere una storia così, perché uno Schreber oggi sarebbe sotto farmaci, neuroletizzato, quindi magari soffrirebbe meno da un punto di vista soggettivo, però non si produrrebbe più un delirio così. Ecco, quindi è un materiale storico oggi, come dire, che oggi appunto non si potrebbe più riprodurre. Quindi ha una prima crisi in cui viene ricoverato nella clinica del dottor Fleshing. Questa prima crisi è scatenata da due elementi in particolare. Uno è l'allontanamento della moglie. Schreber è sposato felicemente con la moglie da otto anni. Non hanno figli. Anche questo elemento è importante. L'allontanamento della moglie è importante e ora capiremo perché. L'altro elemento è il successo, che viene attribuito un po' banalmente, come anche avviene oggi, allo stress. La carriera di Schreber ha un miglioramento, si affatica moltissimo e ha questo crollo psicologico, questo primo crollo psicotico in età matura, come è tipico della psicosi paranoide, che è, tra virgolette, la meno grave dei tipi di psicosi, di schizofrenia. È quella che lascia l'io relativamente più integro perché si difende con un delirio strutturato. Io sono anche psichiatra, quindi ho un ricordo vivissimo dei pazienti psichiatrici che ho seguito nei primi anni della mia vita in ospedale, in comunità terapeutica. Oggi è più difficile che veda pazienti così, però a me capita ancora oggi di vedere elementi paranoicali, paranoidi incistati in pazienti apparentemente meno gravi. Però ho ricordi molto vivi di pazienti così e uno in particolare, di quando ero specializzanda e giovane psichiatra, molto, molto simile a Schreber, di cui magari tra un pochino vi parlo, direi identico, identico come nucleo psicopatologico. Questo elemento del successo, che potremmo dire a posteriori forse un masochismo morale, un soccombere al successo, un masochismo morale che poi Freud teorizzerà molti anni più tardi, nel 24, però può anche rappresentare probabilmente un conflitto edipico, cioè una difficoltà a superare il padre. Questo lo si osserva molto frequentemente, un soggetto che crolla quando ha un successo per il senso di colpa di superare i genitori, il padre. Quindi ci sono due elementi scatenati. Viene curato con successo, abbastanza con successo, dal dottor Fleshy, ma questo fa scatenare un deliro persecutorio. Il dottor Fleshy diventa un emico. Il giudice si mette in testa con la tenacia che hanno i deliri persecutori, i deliri e quelli persecutori in particolare, di essere perseguitato dal dottor Fleshy. Una seconda ricaduta, un po' di anni più tardi, è come sono le ricadute più grave. ipocondria, insonnia, aggravamento della persecuzione. Schreber non vuole più assolutamente vedere il dottore, si convince assolutamente che lo perseguiti, che lo voglia avvelenare, che lo voglia uccidere. e il delirio si complica con elementi di grandezza e con importanti note mistiche. C'è un dettaglio importante. Schreber fa un sogno fantasia, a metà tra il sogno e la fantasia, in cui dice che bello sarebbe essere una donna e poter copulare come una donna. Cioè un sogno, una fantasia di essere castrato. Quindi accendono la seconda ricaduta del delirio di Schreber, che è molto complesso, molto articolato. Freud lo descrive in molti dettagli. Accendono il delirio di Schreber, alcuni elementi scatenanti che poi Freud metterà a base della paranoia in generale e in particolare delle forme psicotiche paranoicali di questo tipo, ma della paranoia in generale come meccanismo. L'allontanamento della moglie e il tracollo totale di Schreber quando la moglie morirà, alcuni anni dopo. L'iniziale buon rapporto, transfer positivo con questo medico, che improvvisamente poi diventa un rapporto di ostinità. Questa fantasia, questo sogno di fare l'amore in posizione passivo-femminile, di copulare in posizione passivo-femminile, che bello sarebbe essere una donna. Fantasia, sogno, un sogno, appunto. Tutto questo viene discusso, si struttura quindi un delirio appunto molto particolareggiato che prende forme mistiche. Dal delirio persecutorio iniziale, il delirio via via si struttura in un delirio mistico. Schreber struttura un delirio composito, molto tenace, molto articolato. Ci sono deliri non strutturati, bizzarri, disarticolati, e deliri strutturati, come ci si insegna in psichiatria. Questo è un delirio strutturato, molto tenace, molto articolato, in cui Schreber struttura un'articolata costruzione in cui lui diventerebbe una sorta di donna di Dio, andrebbe a letto con Dio e da loro nascerebbe una progenie perfetta. Dunque, Freud, nel terzo capitolo, che è il capitolo in cui elabora la spiegazione psicoanalitica di questo delirio, ricostruisce il nucleo originario, che non si applica a tutte le forme di paranoia, ma a molte sì. Il nucleo originario è un potente impulso omosessuale che Schreber ha avuto verso il Dottor Fleshing, spaventato l'io del paziente di Schreber, spaventato da questo impulso, da questa ondata omosessuale, ha trasformato l'amore verso Fleshing sul rogato paterno, molto probabilmente. Il padre era morto nel frattempo, era morto da diversi anni e anche il fratello era morto, ma questo non c'entra per il mondo interno. L'impulso omosessuale provato verso il medico, che lo aveva guarito, la stima provata verso il medico, ha suscitato un forte impulso omosessuale che aveva scatenato il sogno del copulare in posizione femminile con il Dottor Fleshing, evidentemente, sul rogato paterno, appunto. Quindi Schreber aveva avuto un importante edipo negativo, un amore verso il padre, no? L'edipo negativo, abbiamo visto diverse volte, è quella forma di complesso di edipo in cui rimane prevalente la corrente amorosa, la corrente erotica verso il genitore del proprio sesso. L'abbiamo visto nel primo film, in Carol, nel primo seminario, la bambina verso la madre, quindi una fissazione prevalentemente preedipica, di cui uno sbocco può essere anche l'omosessualità. Ma qui siamo in una struttura psicotica, siamo in un altro tipo di strutturazione psichica, non si risolve quindi con un'omosessualità agita, si risolve con un delirio, la cui costruzione molto famosa, che è rimasta famosissima, è la seguente, sarebbe la seguente, è la seguente, io lo amo, negazione, no, io non lo amo, io lo odio, proiezione, lui mi odia, da cui il delirio, che a volte per estensione si sposta a tutte le persone, un'intera categoria mi odia, un oggetto mi odia, cioè il delirio si può spostare a un intero gruppo sociale, a degli oggetti, a una categoria, o si può fissare a una persona, come in questo caso, inizialmente. Dopodiché si sposta a diventare un delirio mistico. Che cosa ottiene col delirio mistico Schreber, col delirio mistico di grandezza, dice Freud? Ma ottiene da un lato lo spostamento su Dio padre, Dio è il padre, quindi accoppiarsi col padre, col padre supremo. Dall'altro un enorme ritorno narcisistico, la massima soddisfazione narcisistica. Questo lavoro è importante anche perché fa da premessa quattro anni dopo a introduzione al narcisismo, cioè nella psicosi c'è una, ci sarebbe, c'è una sostanziale regressione autoerotica al narcisismo. Il paziente non riesce a fare più alcun investimento oggettuale perché regredisce a una fase autoerotica in cui si autosoddisfa, si soddisfa da sé. Per questo Freud ha sempre sostenuto, benché poi lui come si evince da alcuni carteggi, c'è tutto un Freud dei carteggi, che è un Freud conosciuto a chi lo esplora nei carteggi, come quello con Abram ad esempio, in cui in realtà poi seguiva queste persone in analisi. Spesso le inviava ad esempio a Jung, finché l'ha frequentato, o anche a Biswanger. Però poi in realtà, benché si dicesse scettico o pessimista della possibilità di seguire psicotici in analisi, poi ci sono nei carteggi con Abram delle analisi in realtà che ha svolto con grande curiosità scientifica con persone di questo tipo. Però la teoria, la teorizzazione vuole che in virtù del mancato investimento oggettuale, in quanto c'è una regressione, come vediamo in Schreber, all'autorotismo, che è quella fase brevissima prima del narcisismo, il paziente non fa transfer, ama solo se stesso sostanzialmente, e quindi il trattamento sarebbe impossibile o comunque molto difficile. Quindi con il delirio mistico diventando, come dire, il partner di Dio, Schreber otterrebbe una enorme gratificazione narcisistica e il, diciamo, il piacere omosessuale di accoppiarsi con Dio, col padre, che diventa il sostituto in questo modo di flashing e del padre, quindi una figura immateriale, una figura immensa. Tra l'altro Freud nota anche che nella biografia di Schreber egli era frustrato di non aver avuto figli e in questo modo, fantasticando in maniera delirante, accoppiandosi con Dio, di dare vita a una nuova progenie, a una nuova umanità, avrebbe compensato anche questa frustrazione, quella di non aver avuto figli. Quindi questo delirio, a suo modo bizzarro, compensava, rispondeva a diverse esigenze, narcisistica, soddisfazione omosessuale e in ultimo anche quella di avere figli, avere come figli una nuova umanità. Ma si badi che non è così strana questa cosa, no? Alcuni folli, alcuni dittatori che l'umanità ha conosciuto hanno questi deliri. No, Hitler, questi deliri paranoicali di fondare una nuova razza, sono paranoici e forse hanno, se si esplora la loro biografia, dei nuclei omosessuali inconsci. Quindi questa costruzione che qua Freud osserva nel dettaglio non è poi così, diciamo, infrequente. Ci sono una miriade di dettagli nel delirio di Schreber. Alcuni hanno particolarmente interessato Freud e hanno posto le premesse per un altro saggio di due anni dopo, che è Tottenham e Tabù. Schreber era un uomo colto e quindi ha messo nel delirio, poiché tutti i deliri contengono anche note di verità, elementi tratti dalla sua cultura. Ad esempio c'è un dettaglio che Freud riporta nel terzo capitolo che è quello di guardare il sole. Dice, io riesco a guardare in faccia al sole, che è una cosa impossibile. E allora Freud, che era appassionato di antropologia, di miti antichi, va a scoprire un mito antico in cui in certe culture cosiddette primitive c'è un mito in cui si racconta che le aquile portano i loro aquilotti a vedere il sole. Quelli che non riescono, i piccoletti che non riescono a vedere il sole, muoiono. Allora Freud ha un'intuizione, cioè che nei miti dei primitivi cosiddetti sono contenuti elementi come nel sogno dell'inconscio umano. Quindi questo testo è un testo importante per una serie di motivi, anche perché precede appunto Totem e Tabù, il cui elemento essenziale è che nei miti dei primitivi sono contenuti elementi archetipici che ci trasmettiamo da generazioni, presenti nei sogni anche, che appartengono a tutti come questo di guardare in faccia al sole e il sole sarebbe Dio, sarebbe il padre che compare nel delirio di quest'uomo e l'altro è quello che poi comparirà nel saggio sul narcisismo, cioè che nella psicosi c'è una regressione al narcisismo che la renderebbe, che la rende, che la rende difficilmente trattabile se non con accorgimenti tecnici che sono poi quelli che operiamo anche noi oggi, no? Setting modificato, trattamenti vis-à-vis, come ci racconta spesso anche il collega Correale, no? Lavoro nelle comunità, quindi lavoro di rete, perché l'analista spesso può diventare un persecutore, ma spesso diventa un persecutore. Questo testo ha elementi, come tutti, è un testo di 110 anni fa, ha elementi di modernità che vorrei sottolineare, oltre a questo specifico psicoanalitico, su cui ora torno, della paranoia come difesa dall'omosessualità inconscia, che è un assioma che non è mai più stato messo in discussione, che è quello di come Freud ascolta il delirio, di come Freud tratta il delirio. Cioè è la prima volta nella storia della psichiatria e della psicoanalisi che un delirio viene ascoltato con serietà, con dignità, che si dà dignità, così come al testo delle isteriche diversi anni prima, no? In studio dell'isteria, che si dà dignità a un testo delirante. Freud ascolta, legge come se lo ascoltasse, e dico ascolta perché come se lo ascoltasse, legge questo testo con assoluta serietà. Non lo prende come un testo sciocco, bizzarro, campato in aria, da rinchiudere, ma lo scompone come un sogno. C'è un, che è un'idea molto moderna, no? Ascoltare un testo come un sogno, un'idea bioniana. Però le radici sono qua. C'è un passaggio anche, non ricordo in che pagina, una riga in cui dice, tratto il testo come un sogno, che ci sembrano cose non moderne, ci sembrano cose bioniane. Ecco, però attingono a questo modo di procedere, prendere un testo con questa attenzione e trattarlo scomponendolo nelle sue componenti con un testo manifesto, quello che il paziente scrive, racconta, con un testo latente, quello che c'è dietro, elementi di condensazione, di spostamento, lo spostamento appunto del delirio nella figura di Dio come spostamento dell'amore omosessuale. Cioè, Freud lo tratta come un sogno, non lo prende come un discorso campato in aria, bizzarro, e capisce che il delirio, altra idea molto moderna, e che la psichiatria contemporanea troppo farmacologica che si sta allontanando, anzi si è già allontanata troppo dalla psicoanalisi, rischia di abbandonare, capisce un'altra cosa fondamentale, che il delirio è un'autocura per il paziente. Questo lo vedrà molto bene anche Lacan. Il delirio è una neoformazione che il paziente mette in piedi come tentativo di curarsi e che, come gli psichiatri sanno bene, tentativi troppo entusiastici di levarlo precipitosamente, di eliminarlo precipitosamente, possono gettare il paziente nell'angoscia o a volte anche nel suicidio. Quindi non con questo che occorre lasciarlo, perché il delirio fa anche soffrire naturalmente, non voglio dire questo. Però una psichiatria orientata in maniera psicoanalitica sa che il delirio è una neoformazione che il paziente costruisce, che il soggetto costruisce per curarsi, per autocurarsi, cosa che nel film non riesce, perché il soggetto del film invece, che non è una psicosi paranoide, che di tutte le psicosi, come Freud dice, già in questo saggio è, tra virgolette, la migliore, quella che ha una prognosi più favorevole, perché lascia l'io relativamente più intatto, grazie al delirio. Quella del film è invece una schizofrenia, appunto indifferenziata o simplex, dove c'è un abbozzo delirante, il paziente farà, non ve lo anticipo, perché sembra un po' un giallo, un giallo psicoanalitico, che un pubblico così anche non informato, a volte non ha capito, è un film che ha lasciato un po' il pubblico, a volte nel mistero, ecco, tanto è ben fatto, ma lì il tentativo delirante nel personaggio del film invece non è riuscito, non si struttura un delirio efficace. Qui fino a un certo punto invece sì, se non fosse morta la moglie, perché la morte della moglie è la catastrofe per Schreber? Ma perché la moglie in un soggetto che si difende dall'omosessualità è una protezione naturalmente, appunto perché qui l'omosessualità voleva rimanere inconscia, non è come nel caso di Carol, dove vuole esprimersi come nella ragazza, dove abbiamo visto il caso della giovane omosessuale che va da Freud e non è in conflitto affatto con la sua pulsione, qui invece l'omosessualità è in conflitto enorme con l'io, vuole rimanere inconscia e il matrimonio, come sappiamo, è un'eccellente difesa, pur debole, perché è pur sempre una difesa esterna, ma questo era un buon matrimonio. Il paranoico tra tutte le psicosi, dice Freud, è capace di amare, è capace di desiderio, è capace di un investimento sull'altro e quindi è un soggetto che può avere oggetti amorosi. Quindi questo era un buon matrimonio. Schreber amava la moglie ed era riamato dalla moglie, così come è in grado di investire sul dottore entro un certo punto, fino a che appunto proprio l'amore poi lo tradisce, proprio perché ama il dottor Fleshing. Poi questo trasfero amoroso si trasforma in un delirio persecutorio. Perché? Perché da un oggetto d'odio ci si può difendere, da uno d'amore è molto più difficile. Quindi la morte della moglie, come può avvenire in situazioni realistiche, rappresenta la caduta di un elemento difensivo importante, come può succedere nelle storie di persone realistiche o anche di persone che incontriamo nelle nostre storie cliniche, quando viene meno un elemento difensivo, come uscire da gruppi come l'esercito, la chiesa, il clero, gruppi maschili, quindi elementi che, certe relazioni, certe professioni, che difendevano da omosessualità inconsce. Troide in questo, quindi il nucleo di certe paranoie, il nucleo della paranoia è sempre la proiezione, cioè l'infezione fondamentale già avuta nelle minuti a Flisse era che la paranoia è un meccanismo di difesa, come è ben noto, presente non solo nella psicosi, nella nevrosi, nel border, c'è tutto uno spettro a seconda della gravità, il bambino usa da subito la proiezione, e lui è brutto, lui è cattivo, è stato lui, è una proiezione, in cui metto nell'altro, metto fuori qualcosa che non voglio in me stesso, un meccanismo che noi usiamo continuamente. E a seconda della gravità, come la scissione vista l'altra volta, non è la sua presenza in sé che è patologica, è la sua frequenza, estensione, quanto permia la personalità, quanto è massiccia, quanto è profonda, che dà una psicopatologia. Nella psicosi paranoide, molto spesso, come in questo caso, la paranoia non è semplicemente la proiezione all'esterno di un elemento indesiderato, quindi metto all'esterno qualche cosa che non voglio in me, quindi l'altro diventa brutto, cattivo, invidioso, colpevole, eccetera. Il che può però tornarmi indietro, e quindi io essere perseguitato, non necessariamente, il paranoico vive tranquillamente. A volte sì, e questo può diventare anche una professione, può diventare un leader politico, personalità, paranoicali, possono vivere in maniera efficace e efficiente, ma spesso no. Nelle psicosi paranoide, il passaggio delirante in più è la difesa dall'omosessualità, in cui appunto il processo è che l'amore diventa odio sostanzialmente. Un amore erotico che deriva da un complesso edipico negativo potente e irrisolto non trova altre strade per esprimersi che non siano appunto la proiezione in un delirio persecutorio strutturato. In un neurotico si sarebbe potuta risolvere in un'omosessualità inconscia. È una cosa molto frequente che ritroviamo nei sogni, sublimata in amicizie, nei lapsus, in una vita eterosessuale inibita, poco riuscita. Mentre in una struttura psicotica tutto questo non è sufficiente. È necessario qualche cosa di più. Ci sono altre forme psicopatologiche, dice Freud. Una volta che ha scoperto, che ha teorizzato il meccanismo che appunto l'omosessualità è inaccettata, deve essere proiettata e si deve creare un persecutore. Ci sono altre strutture psicopatologiche caratterizzate da deliri molto tenaci in cui l'omosessualità inconscia è proiettata. che sono altre due che cita in questo lavoro nel terzo capitolo che sono l'erotomania che è prevalentemente femminile e il delirio di gelosia che si riscontra più spesso negli uomini, anche nelle donne e molto spesso nell'alcolista. In queste altre due forme psicopatologiche alla base c'è lo stesso conflitto omosessuale inconscio che c'è nella paranoia. Nella erotomania anche se sembra in apparenza che non sia così, il soggetto prevalentemente femminile si crede amato da un uomo famoso, ma l'indagine psicoanalitica rivela che anche qui c'è una fissazione preedipica forte della donna alla propria madre, a un'altra donna. Ma per tutti i rivolgimenti che abbiamo visto come per Schroeber viene poi spostato di modo che sembra che il persecutore, che in questo caso è un oggetto esterno che la persona ritiene che la ami, sia un uomo famoso, comunque un uomo di pregio, che la amerebbe. Nel delirio di gelosia, anche questo è piuttosto frequente, il delirante di gelosia nega il fatto di essere lui che ama un altro uomo e quindi diventa è lei che lo ama, non sono io. Esposta sulla donna l'amore per un altro uomo. Infatti il delirante di gelosia ha bisogno di avere questa donna. Se questa partner lo lascia, molto spesso lui crolla e ne cerca un'altra, è un tipo di soggetto che ha bisogno di stare con una donna di cui essere ripetutamente geloso. Sono quindi tre figure psicopatologiche alla cui base, attraverso questo contorto giro, scissione, negazione, proiezione, i meccanismi di difesa vanno da soli, in cui il soggetto si libera di un forte desiderio omosessuale inconscio proiettandolo all'esterno e in questo modo si rende dipendente però dall'oggetto esterno, cioè paradossalmente non è libero, ecco, un po' come il narcisista che si vorrebbe libero dagli oggetti ma poi ha bisogno di continua approvazione, no? Un po' il paradosso della figura del paranoico, se vogliamo, è che anche nel desiderio di grandezza, però c'è poi una dipendenza dall'oggetto in cui ha proiettato, perché nel proiettare all'esterno io comunque poi dipendo da qualcuno in cui metto dentro. la psicanalisi, quindi ecco, naturalmente, quindi è chiaro che non tutte appunto le proiezioni hanno quindi un'origine omosessuale inconscia, ma molto spesso, molto spesso, la psicosi paranoide invece sì, appunto vi dicevo nei miei ricordi psichiatrici il primo paziente psichiatrico che ho seguito quando ero ancora specializzanda, giovane specializzanda, giovane psichiatra, era proprio una psicosi paranoide di questo tipo. un giovane paziente ad esordio non precocissimo, anche questo, questi esordi, a differenza delle schizofrenie come quella del film, sono un pochino più tardive. Aveva un delirio persecutorio esordito, un ragazzo molto bello, molto attraente, un esordio, un esordio, un esordio, un esordio, un esordio, esordio intorno ai 25-26 anni, quindi relativamente tardi, ricoverato in clinica psichiatrica, mi viene affidato e io lo prendo in psicoterapia psicoanalitica allora, ma io avevo già un'impostazione, un'identità, ecco, fortemente psicoanalitica e il paziente era esordito durante un viaggio a New York, la psicosi esordiva durante un viaggio a New York in cui andava dallo zio a lavorare e si era sentito, abbiamo ricostruito poi terapia, occorre conoscere i pazienti, ricostruire la storia, si era sentito corteggiato a suo avviso dal coinquilino, come avviene in questi viaggi così da giovani, divideva l'appartamento a New York con un coinquilino e a suo dire, questo coinquilino, forse probabile, non probabile, non ha importanza, ecco, sarebbe comunque successo, questo coinquilino lo aveva corteggiato, a suo dire, da lì il delirio si estende ai poliziotti, a chi lo guarda per strada, ai vicini di casa, che sono tipici oggetti, persecutori, vicini di casa, per la loro vicinanza, per i muri che dividono, per le porte, fino a che diventa via via sempre più angosciante e viene ricoverato, restando altre parti dell'io, come in Schreber, come in questi pazienti, lucide, quindi riusciva a parlare, a fare le sue cose, un paziente che non si è deteriorato da quello che ne so, l'ho seguito per molti anni, ma non si è deteriorato particolarmente. Cos'era successo in questo paziente? Il paziente detestava il padre, lo odiava, lo riteneva debole, ma come anche Schreber, aveva un ricordo tormentoso del padre, il padre era stato severo, lo puniva, questo non vuol dire niente, il sentimento conscio non è quello che ci, non ci dice nulla, il sentimento conscio. È probabile che ci fosse stato un tipo negativo in questo paziente, ma io ritengo che l'ondata di amore, il flashing di questo paziente fu lo zio. L'oggetto erotico era stato lo zio, questo zio molto ammirato, molto stimato, che aveva avuto successo in America e il contatto stretto con questo zio spostato su un cinque inquilino e su poi gli oggetti del mondo sia stato l'elemento scatenante che c'è sempre nella psicosi paranoide, che poi si è spostata a tutti gli oggetti, diciamo così, del mondo. Il fatto che io fossi una donna, una giovane donna all'epoca, ha consentito un transfer mite, neutro su di me e quindi aveva lavorato ecco abbastanza bene. Allora, interpretare o no questa cosa a un paziente così, io mi trovai in questo dilemma. Interpretare un nucleo omosessuale di questo tipo è un dilemma etico clinico in cui ci si può trovare e ricordo che interpretai altre cose molto importanti a questo paziente ma questo decisi di no, che non riteni utile, non riteni che avrebbe migliorato la sua posizione del mondo, diciamo così. Quindi andò comunque abbastanza bene perché ecco perché l'interpretazione comunque richiede che ci sia del rimosso, che ci sia comunque una rimozione e nella psicosi a mio modo di vedere ecco concordemente con Freud il meccanismo fondante non è la rimozione, è il rigetto o la forclusione, quindi non credo che un paziente così si sarebbe giovato di venire a conoscenza di un rimosso di che pazienti così, ecco, mentre la conoscenza di altri aspetti di sé lo hanno molto aiutato la conoscenza di un complesso omosessuale inconscio non rimosso, rigettato, come dice Lacan, forcluso, sarebbe tornato dalla finestra, cioè quello che è spulso dalla porta nello psicotico sarebbe comunque tornato sotto forma forse di un altro delirio, quindi ecco non ho ritenuto conformemente, non è che leggessi, avessi questo caso così in mente ma conformemente a una aderenza freudiana ma non solo freudiana ecco sulla psicosi non ho ritenuto che questo paziente di questo tipo se ne sarebbero giovati. Nel dopo Freud sono noti gli autori principali ecco nel dopo Freud sulla psicosi come è noto ecco tutta la scuola inglese ma anche francese hanno fatto esperimenti importanti un'esperienza molto importante fu quella americana di Chestnut Lodge negli anni 50 l'unica forse vera esperienza psicanalitica in senso stretto di psicanalisi agli psicotici fu quella temporanea perché poi fu chiusa fu chiusa non perché fallimentare ma perché troppo postosa ve la ricorderete fu quella di Sears fritta foco reichmann e Sears i principali ecco che negli anni 50 in questa struttura vicina a Chicago trattarono effettivamente in maniera psicanalitica pazienti psicotici e la loro esperienza è racchiusa il testo principale quello di Sears scritti sulla schizofrenia e questa esperienza appunto non fu fallimentare però richiedeva che questi pazienti erano ricoverati appunto in struttura e gli analisti erano dediti esclusivamente alla loro cura e la stessa Fromm-Reichmann nei suoi scritti appunto scrive come la cosa importante è modificare la tecnica avere dai pazienti la loro fiducia e poi appunto l'esperienza fu conclusa per i costi troppo elevati che comportava comunque questo testo di Sears è meraviglioso contiene un articolo sul conto transfer all'epoca sottovalutato e poi oggi rivalutato che è straordinario un altro articolo come rendere folle l'altro che in fondo è sempre sul conto transfer che è straordinario poi riconosciamo tutto il filone della Klein di Rosenfeld e poi di Bion interessante è anche Racamier Racamier è un autore che si cita sempre un po' troppo poco che è un autore appunto molto molto freudiano Racamier cosa dice che sostanzialmente l'oggetto vi leggo questa frase di Racamier l'oggetto è il vero nemico per uno psicotico per il solo fatto di essere investito il pericolo il pericolo è quello di essere aspirato e assorbito dentro l'oggetto quindi mentre il neurotico dubita come trattare un oggetto come lo tratto cosa faccio il dilemma psicotico è lo tratto o non lo tratto è un dilemma basico verso l'altro l'inferno sono veramente gli altri per lo psicotico quindi Schroeber nel suo delirio di grandezza ha veramente risolto è come se avesse risolto il conflitto psicotico alla base anche se poi questo crolla poi questo non può durare perché perché come nota Freud e come nota Le Guin nella nota sulla paranoia nel dizionario freudiano è un mondo completamente disinvestito questo da cui la frequente il frequente delirio di catastrofe che il cinema ha così spesso usato la catastrofe la fine del mondo cos'è la fine del mondo che così spesso lo psicotico immagina o delira o è presente nei suoi incubi è come dire padroneggiare in un mondo completamente vuoto completamente disinvestito di oggetti esterni ma soprattutto interni perché oggetti esterni sì una persona solitaria o schizzoide può anche un po' farne a meno però ha un ricco mondo interno in un mondo completamente disinvestito non si può vivere e quindi è molto bella questa nota che Freud fa sulla catastrofe sulla 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 frequente delirio di catastrofe di fine del mondo che lo psicotico di questo tipo lo psicotico grave ha corrisponde al suo mondo interno completamente disinvestito leva questo leva quello come dice Racamier l'oggetto è il nemico e in questo modo poi non si può vivere quindi ecco di tanti autori che se ne occupano se ne sono occupati recupererei questi testi di Racamier sull'anti-edipo per la sua precisione nel film ecco il film tra l'altro ecco la paranoia è un po' è interessante perché la paranoia è una patologia è una un topic di cui in psicanalisi si parla molto meno nella contemporaneità si parla poco anche nei nostri congressi nelle nostre riunioni benché la si osservi molto spesso pazienti così noi ne vediamo pochi ormai nella pratica psicanalitica e anche psichiatrica perché si curano con i farmaci si curano abbastanza bene con i farmaci anche a costo di un appiattimento della loro ricchezza delirante quelli che non si curano con i farmaci sono i borderline i stati limite questi li vediamo però pazienti così purtroppo o per fortuna ne vediamo molti meno o non ne vediamo no persino nei servizi Correale mi racconta che fa supervisioni ai servizi pazienti così con questi deliri di questo tipo non se ne vedono quasi più quindi la paranoia che curiosamente diciamo abita meno i nostri consensi scientifici però di converso è straordinariamente frequente nel discorso sociale invece cioè anche se guardiamo la vicenda della pandemia il paradigma sociale contemporaneo è un paradigma paranoicale a differenza di quello degli anni 80 90 che era un paradigma hedonistico pensiamo agli anni di Berlusconi agli anni di Craxi o al paradigma degli anni di paradigma di anni Freud che era il paradigma isterico del conflitto della proibizione il paradigma contemporaneo non sono solo io a dirlo l'ho anche letto e sentito c'è un bel libro di un lacaniano di cui non ricordo il nome uscito in questi anni un sudamericano sulla psicosi sulla psicosi e la paranoia che si chiama l'insondabile scelta che sarebbe la psicosi l'insondabile scelta perché ogni patologia nell'ottica lacaniana e anche un po' freudiana è una scelta in fondo del soggetto noi scegliamo in base a una predisposizione di cosa ammalarci in fondo quindi a fronte di una clinica quella contemporanea che ha messo un po' da parte la paranoia il discorso sociale ne è impregnato invece e la vicenda della pandemia l'ha dimostrato il paradigma contemporaneo è un paradigma paranoico persecuzione vittima una grande parte del del corpo sociale almeno una parte almeno in occidente l'oriente è un po' diverso perché è collettivistico è diverso insomma ma la psicanalisi è una la psicanalisi è sostanzialmente occidentale una parte del nostro corpo sociale è convinta che ci sia un grande altro come dicono appunto i lacaniani che ci spia che ci governa che ci vuole introdurre cose nel corpo che ci vuole far ammalare big pharma piuttosto che lo stato e sono tenacemente convinti c'è una parte abitata da angosce paranoidi ma strutturate in convincimenti molto tenaci ecco ora la pandemia sta passando e magari non se ne parla più però c'è un tale che fa la guerra che quindi ha proiettato messo in un altro popolo in un altro stato ora è corrente quindi ne parlerà la storia quindi c'è sempre una quindi una corrente paranoicale ecco che serpeggia nella società e che diamo per diamo per che probabilmente non ha una matrice omosessuale se non in singoli individui io penso di sì in singoli individui sia una difesa dell'omosessualità inconscia sia legata a dei a dei preedipi molto forti io lo osservo queste analisi ecco però ecco è interessante che il discorso sociale sia così impregnato di di un paradigma paranoico questo è molto interessante rispetto ad altre a a 20 30 anni fa dove prevaleva appunto l'edonismo e combattevamo quello parlavamo di quello mani pulite no eccetera e questo autore di cui purtroppo non ricordo il nome dice anche che il paranoico è un paziente il paranoico o il paranoide quindi quello un po' meno grave è un paziente che può andare dallo psicanalista nonostante la sua diffidenza perché perché rifiuta di essere normato e la società la contemporaneità tende a normarci tende a volerci un po' tutti uguali mentre questo è un soggetto un po' come il narcisista che vuole una sua singolarità vuole essere ascoltato nel suo discorso singolo personale e questo lo fa solo la psicanalisi almeno finora diciamo finché ce lo lasciano fare l'unica l'unico trattamento che eticamente preserva la singolarità è la psicanalisi e questo il paranoico lo pretende vuole essere ascoltato a raccontare quali sono i suoi nemici che sia la moglie il capo il vicino di casa e dunque questo è un tipo di paziente che paradossalmente non accetta che l'altro lo aiuti l'altro è un nemico ma vuole essere ascoltato nelle sue recriminazioni e dunque vive un po' in un paradosso ed è un tipo di soggetto che noi ascoltiamo sia singolarmente nella nostra stanza può può capitarci sia nel discorso sociale lo si ascolta continuamente con le sue recriminazioni con la sua ricerca di nemici vengo al film il film è un film di Cronenberg del 2002 e io credo che sia quando lo vidi e poi l'ho rivisto un'altra volta per voi per proporvelo io credo che sia il più perfetto film sulla psicosi in chiave psicoanalitica che sia mai stato fatto rimasi molto colpita nel senso che il regista è tratto da un libro è vero anche questo tutti questi film casualmente tratti da libri da un libro di Patrick McGrath con lo stesso titolo fedelmente da un libro questo autore come saprete è vissuto lungamente in manicomio e quindi ha osservato gli psicotici in epoca pre-farmacologica come questo siamo anni 50 qui quindi pazienti manicomio senza farmaci quindi l'autore ha osservato gli psicotici in dettaglio e li ha descritti nella loro autentica realtà ma il regista ha trovato davvero espedienti cinematografici riuscitissimi per descrivere la realtà la confusione tra realtà e mondo interno del protagonista e il conflitto edipico o pre-edipico ma diciamo edipico del 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 protagonista di questo Glenn o Spider perché costruisce una rete questo ragno il suo materno che lo imprigiona e come il regista ha trattato la genialata di aver trattato diciamo utilizzando la stessa attrice la proiezione del del protagonista è veramente geniale e ricordo quando l'ho visto al cinema la prima volta che le persone dietro di me non avevano capito appunto perché richiede effettivamente quasi una preparazione freudiano kleiniana ecco questo paziente bloccato in una posizione schizoparanoide in cui scinde l'oggetto buono e cattivo e aver usato la stessa attrice per tutte le proiezioni che il paziente fa della propria madre è veramente un'intuizione geniale di questo Cronenberg che ha fatto molti film sulla psicosi un altro è inseparabili un film molto bello anche questo ci sono tanti film sugli psicotici Beautiful Mind The Family Life Taxi Driver nella parte finale in cui si sente perseguitato da chi lo guarda dal palazzo ma questo è veramente perfetto questo è veramente squisito anche qui il protagonista scrive un diario si racconta quindi cerca di contenersi raccontandosi peraltro quindi è tutto strutturato sul ricordo sui ricordi vi vorrei aggiungere una cosa se ho ancora tempo qualche minuto la visione freudiana del ricordo che forse non se ne è mai parlato in questi seminari che richiederebbero ovviamente tutta una trattazione la memoria non è per Freud una cantina in cui accumuliamo cose la memoria è continuamente costruita e ricostruita costruita e ricostruita costruiamo continuamente ricordi la visione freudiana del ricordo è estremamente affascinante e interessante Green dice estremizzando un po' forse le cose che non esiste in psicanalisi l'anamnesi è inventata questa forse è un'estremizzazione anche un po' poetica di Green ma il film rende molto bene la costruzione freudiana del ricordo perché non si capisce proprio già lo psicotico nel rapporto col tempo come ci insegnano i terminologi ha un rapporto alterato col tempo non è come il nostro la temporalità è spezzata è frantumata e la proiezione essa stessa come poi vedrà la Klein nella proiettiva la proiezione frantuma perché proiettando io sperdo io sperdo nel proiettare io sperdo la proiezione quando è semplice metto nell'altro e buonanotte ma nello psicotico c'è uno sparpagliamento di elementi che vanno in giro quindi è un elemento frantumativo dispersivo la proiezione psicotica non è che semplicemente tu sei cattivo tu sei brutto quindi ecco è anche interessante nel film come come è trattato il ricordo nel film e in tanti altri film così intelligenti così raffinati per cui è difficile dire cos'è vero cos'è no proprio come in analisi e non è neanche importante per cui appunto la memoria non è affatto un magazzino in cui accumuliamo la memoria è continuamente costruita e ricostruita per questo l'analisi si rende efficace è una co-costruzione continua e non è tanto importante è importante per il paziente certo ricordare ricordare ripetere ricostruire però quello che è importante è la continua costruzione del ricordo concludo prima del film con questa frase tratta da ricordi di copertura del 1899 dove appunto sui ricordi Freud si chiede in quanto appunto il protagonista del film lungo tutto il film ricorda e lo spettatore è confuso da questo da questo ricordare va persino messo in dubbio se abbiamo ricordi coscienti provenienti dall'infanzia o non piuttosto costruiti sull'infanzia allora esiste l'infanzia o l'infanzia ce la costruiamo mi fermerai qua bene grazie Rossella per questo racconto analitico molto avvincente come sempre mi fai venire in mente un momento prima di proiettare il film una riflessione a caldo mi chiedevo se in questa in quest'epoca in cui rispetto al passato l'omosessualità è più accettata c'è una consapevolezza maggiore e anche una conflittualità minore non in tutte le persone però rispetto al passato c'è una maggiore presa d'atto se la paranoia oggi non possa essere invece sostenuta anche da questi fattori o soprattutto da questi fattori più sociali a cui tu accennavi perché a me pare che oggi noi viviamo in una società che da una parte ha un po' come dire si è un po' più tranquillizzata rispetto all'omosessualità diciamo così poi l'omofobia è un altro discorso mentre ci sono moltissime spinte paranoicali rispetto a quello che accade appunto dalla pandemia alla guerra i nostri vicini oggi sono molto pericolosi e quindi noi abbiamo una visione del mondo e delle cose del mondo perché il virus per esempio è anche non è una persona però è qualche cosa che innesca molta paranoia ecco mi chiedevo se anche la nostra visione psicoanalitica se i nostri studi oggi possono possono tenere conto pure del fatto che esiste un che esistono maggiormente un'incidenza dei valori sociali e degli assunti che non quella che poteva essere una volta la portata di un'omosessualità rimossa o di un'omosessualità inconscia se anche la psicoanalisi debba un po' come dire aggiornarsi fra virgolette cioè tenere in conto che forse oggi il nemico non è l'omosessualità ma ci sono delle cose ancora più cruciali che non conosciamo tra l'altro che non conosciamo per questo ci rendono ci spaventano ancora di più beh questo era uno uno spunto a caldo che il tuo racconto mi ha stimolato allora chiamo in causa Dario Miller se ci manda il film e poi ci rivediamo è difficile riprendere eccoci il discorso difficile un film bellissimo veramente non l'avevo cioè l'avevo visto ma non me lo ricordavo notevole notevole chissà perché non me lo ricordavo molto molto fatto benissimo molto bene vabbè aprirei subito la conversazione dico due cosine così apriamo il dibattito abbiamo siamo giusto in tempo che non sono riuscita a dire prima avevo detto un film freudiano e kleiniano lo è veramente nel senso che mette proprio in crisi il paradigma ambientale cioè nel senso che come avete capito ampiamente dalla scena iniziale in cui il bambino vede la coppia che si abbraccia dalla finestra inizia la sua fantasia psicotica di scindere l'oggetto in un oggetto buono e cattivo e uccidendo l'oggetto cattivo però perde anche l'oggetto buono diciamo in tutte le donne lui vede la madre come dire ecco è tutto interno a lui quella frase di prima sul ricordo di freud è proprio azzeccata cioè lui ha una famiglia che si ama una coppia di genitori che si vogliono bene e che gli vuole bene è tutto interno a lui non c'è mancanza ambientale se non un'infanzia solitaria in un paesino povero modesto è tutto interno al soggetto questo è interessante ecco quindi è proprio nell'ottica di una di una teoretica afroidiana e crainiana non è la scissione tanto vista l'altra volta dell'avversario del soggetto è più la scissione dell'oggetto della madre rappresentata magnificamente grazie al cinema non ho letto il romanzo che è meno famoso del precedente di questo autore di follia ma per quanto il romanzo sia bello impossibile rappresentarlo bene come nel cinema la scelta del regista di usare la stessa attrice è veramente una scelta davvero magistrale ecco e comunque sì tante cose da dire ecco ma comunque avevo citato prima poi chiudo l'altro lavoro di Freud psicologia della vita amorosa perché Freud tratta come dire l'ampassa edipica di scissione della madre amorevole seduttiva buona della madre buona e della madre che seduce ma la tratta nel nevrotico il nevrotico diciamo produce sintomi come dice ad esempio l'uomo impotente per non andare incontro a questa situazione incestuosa dell'uomo nevrotico normale nevrotico normale ad esempio può ad esempio sviluppare il sintomo dell'impotenza così degrada la donna separa la donna che ama angelicata dalla donna virgolette puttana e se la cava diciamo così con un sintomo come l'impotenza oppure non riuscire a sviluppare desiderio sessuale una cosa frequente negli uomini questa anche i nostri pazienti non riuscire a sviluppare desiderio sessuale con le donne che con le donne che amano di cui sono innamorati eccitarsi soltanto con quelle che non amano di malaffare dice Freud ecco e questa è una soluzione neurotica lo psicotico non ce la fa uccide la donna uccide la madre e forse nei delitti degli psicotici verso le figure familiari verso la madre c'è un tipo di storia come quella del film far fuori tutto quindi ecco è interessante come è tutto interno al bambino futuro psicotico già psicotico si tappa le orecchie spider forse è allucinato dentro con l'età 3-5 anni 6 anni che è l'età edipica e poi tanti dettagli molto verosomiglianti per chi ha visto pazienti psicotici gravi schizofrenici come questo c'è molta verosomiglianza gli strati addosso i dettagli amplificati riempire tutti gli spazi quindi è veramente molto molto ben fatto ecco molto ben fatto mi fermo qua siete in tanti 50 persone sentiamo un po' di commenti in libertà fa piacere che vi sia piaciuto come tutti gli altri sono film veramente notevoli ecco e questi pezzettini che lui va raccogliendo anche mi facevano ricordare un seminario che abbiamo fatto tanto tempo fa al laboratorio con Correale in cui appunto parlavamo di questa necessità dello psicotico di raccogliere piccoli pezzettini di cui riempire la sua casa e tra l'altro sono quegli ambienti che chi ha lavorato nei servizi e ha fatto le domiciliari ha visto nella casa di pazienti psicotici piene di pezzettini di giornale di cose raccolte per strada piccole cose apparentemente inutili che però come ci raccontava Correale rappresentano pezzettini di sé pezzettini del paziente dai quali lui non si può separare e qua nel film c'è questa valigia piena di questi pezzettini di queste cose che sembrano raccogliticce ma che rappresentano in questa valigia un po' logora rappresentano tutto il suo mondo interno e poi questi fili mi è sembrato interessantissimo questa questa metafora dei fili che attraverso i quali lui compone scompone la stessa maniera del puzzle che compone scompone fanno pensare all'organizzazione della sua mente psicotica fatta appunto i pezzetti di fili che si tendono e si spezzano comunque ci sono tante cose veramente bravissimo questo regista per collegarci un attimo anche alla teoria di oggi vediamo anche l'enorme differenza con Schreber col delirio paranoico strutturato che ha una logica che ha un ritorno narcisistico che compare tardi nella vita che ha una genesi in quel caso omosessuale non c'è alcuna organizzazione è tutto spantegato è tutto molto povero si compie un delitto è agito c'è molta differenza a me colpiva moltissimo anche questo continuo parlare questo borbottare questo come se ci fosse veramente la necessità di farsi compagnia da solo di raccontarsela da solo mi viene da dire e poi ogni tanto questo ripetere magari delle cose che erano quelle di questa sua realtà psicotica proprio c'è proprio questa anche con queste movenze con questi movimenti con questa sorta di mi ha fatto venire in mente una cosa che all'epoca veramente mi sconcertò profondamente ma avrò avuto vent'anni il fratello di una mia compagna di università aveva dato segni di equilibrio e io andavo a studiare da questa ragazza il suo fratello aveva questa stanza nello stesso appartamento allora mi disse ma guarda guarda che cosa ha fatto mio fratello mi spalancò questa questa stanza dove c'erano esattamente questi fili come ho visto stasera in questo film forse ancora più intrecciati ancora più proprio si poteva guardare ma era una stanza dove non si entrava infatti dice che lui strisciava sotto cioè c'era un materasso per te con tutta la roba e allora proprio mi ricordo che ebbi questo flash questa immagine proprio di una grande sofferenza e di una sofferenza di tutto il contesto perché questa sorella naturalmente loro non sapevano cosa fare ecco e qui ho rivisto questa immagine che mi ha fatto proprio pensare a questo intreccio a questo questo sviluppo psicotico proprio di cose che non trovano cioè che hanno bisogno appunto di stare attaccate appiccicate così che magari hanno una loro logica ma che naturalmente a noi rimandano questa sofferenza e questa insomma tutte queste cose raccogliamo un po' di posso parlare direttamente perché non trovo la notazione grazie dottoressa valtre intanto grazie perché l'ammiro moltissimo secondo me ci voleva proprio un ritorno a Freud in questo attuale panorama psicoanalitico vabbè comunque volevo dare un'impressione sul film che mi ha colpito molto e mi ha fatto tornare in mente il gioco che spesso fanno si faceva da bambini quello che quando lui giocava con i fili con le mani quel gioco almeno io lo facevo da bambina si costruivano delle culle si diceva facciamo la culla no e lui dice alla mamma buona questo è per te come se fosse almeno io l'ho letto così un invito a un contenitore ma anche a una non separazione dall'oggetto buono e poi questa separazione c'è stata e con gli stessi fili ha portato alla morte la madre poi le volevo fare una domanda perché sono rimasta un po' così sospesa non riesco a capire se può se può parlarne lei dice che nel suo caso che aveva esaminato da caso paranoico sembra che questa esplosione sia avvenuta a causa di uno zio quando questo ragazzo mi pare fosse andato a New York in America ecco questo non lo riesco bene a collegare no uno zio è uno zio non so grazie sì posso dire un'impressione prego allora a me ha colpito che quando lui arriva in questo nuovo posto nel quale andrà a vivere che passa davanti a una a una struttura una una casa dove ci sono tutte le finestre chiuse cioè tutti ci sono le finestre chiuse dai mattoni e dipinte di azzurro no come se rappresentassero quasi un non so una una chiusura verso un mondo esterno no proprio come lui no con queste finestre che sembravano quasi degli occhi no azzurri un po' forse come i suoi no come se il regista inquadrasse subito eh qual è l'argomento del quale si tratta cioè proprio un qualcosa che capi all'interno del mondo interiore e poi questo gas 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 questa costruzione che incombe no da subito eh che eh è sempre lì apre la finestra e ritorna questo questo questa cosa che è diventato quasi un incubo enorme no che lui con il quale continua a confrontarsi ecco un po' questa questa impressione e a proposito di questa struttura eh io quando l'ho vista mi sono ricordata del sistema panottico cioè di queste strutture circolari a forma di torre che controllano eh le altre che sono eh attorno no il panottico è stata realizzata da venten nel ottocento mi pare e sembra quasi che sia una predizione di quello che è il pensiero eh persecutorio di questo di questo ragazzo cioè di questo controllo che subisce questo controllo dovunque come succede appunto nel panottico anche questo particolare che sembra ininfluente però dà una suggestione sempre in relazione a questo tema del controllo molto forte posso? Cristina prego mi ha fatto venire in mente questo per fortuna non nel film ma il discorso di tutti questi fili il mio primo caso di un bimbetto e aveva tre anni e mezzo circa e però sa benissimo adesso per fortuna ho notizie eccetera e questo bambino aveva cominciato cioè quando venne in terapia appunto era il mio primo caso e infatti mi ricordo ci feci poi fu un caso del diploma all'asnesipsia e ho detto che quella per lui era la prima seduta ma era la prima seduta anche per me quindi era una situazione molto particolare e questo bambino aveva un sacco di fobie giocava stando fermo da solo insomma era una situazione abbastanza preoccupante e i disegni che faceva erano sempre e solo labirinti labirinti e mappe con di tutto bombe vulcani cose che esplodevano trappole varie eccetera qui sono andò avanti per mesi faceva sempre la stessa cosa sempre la stessa cosa mi ricordo che il mio supervisore mi diceva sì ma tu devi dirgli questo e io non mi sentivo mi sentivo uno scema di delle cose perché ero veramente all'inizio a un certo punto quando senti insomma che era la senti una cosa più mia gliela dissi e sopimbetto quattro anni a quel punto quattro anni qualcosa mi ha detto eh sì vero perché allora c'era la situazione familiare due diciamo due persone carine ma che avevano dei grossi c'era una grossa angoscia di morte che circolava in casa perché la madre di questo bambino aveva avuto da qualche tempo una diagnosi di sclerosi è multiple quindi c'era ma il bambino in teoria non lo sapeva e cioè in maniera esplicita ovviamente e la madre e il padre era un ex brigatista aveva fatto non aveva ucciso nessuno però diciamo era stato si era fatto comunque il carcere dove era quello insomma di sicurezza eccetera eccetera insomma il bambino non sapeva nulla appunto in maniera esplicita così non era e e poi c'era un'altra cosa che invece era anche questa il bambino non la sapeva ma la madre aveva delle esplosioni e qua le esplosioni della dei dei disegni perché poveretta ad esplosioni di 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 ira no così insomma perdeva la pazienza facilmente in maniera e perché poveretta aveva un padre schizofrenico insomma psichiatrico ecco e lei aveva anche mi pare due o tre sorelle due mi sembra e sto padre la notte le svegliava con un cazzotto in faccia cioè con queste esplosioni di di rabbia di cose e quindi c'era tutto questo passaggio chiaramente non non consapevole no di transgenerazionale insomma c'era veramente e questo bambino per tanto tempo fece questa cosa a un certo punto cominciò a fare nella stanza delle strutture tipo quelle del di spider con tutto lo spago che avevamo nella scatola praticamente legava il termosifone la finestra eccetera era veramente come la la cosa che diceva la collega e e voleva che alla fine e me le lasciava così e voleva che io raccogliessi tutto questo spago e io lo dovevo meno male che era uno solo il paziente aveva solo lui e quindi io passavo un sacco di tempo dopo a smontare questa cosa e poi lui la rifaceva e così via poi cominciamo a smontarlo insieme poi diventò una rete io avevo una specie di materasso nella stanza diventò una rete su cui lui mise il materasso e si mise lì come a potersi rilassare quindi c'è stata tutta questa evoluzione e dalle trappole infatti io la vedevo questo passaggio dalle trappole a una rete che contiene e che sì insomma su cui poteva rilassarsi eccetera e diciamo di lì a poco per così dire insomma poi abbiamo abbiamo finito io per fortuna ho avuto anche notizie perché spesso questo non avviene perché comunque la madre andava da una mia collega e poi la madre mi scrisse una lettera bellissima anni dopo quando questo era un ragazzo adolescente più che molto commovente insomma veramente una bellissima storia per me è stata e quindi per fortuna ecco non era non ha avuto l'evoluzione né la tragedia le tragedie diciamo del film il protagonista del film del libro però insomma mi sembra me l'ha ricordato no tutto questa questo passaggio mi è stata una bellissima evoluzione poi alla fine insomma vabbè posso aggiungere un'altra cosa allora un'altra cosa che mi ha colpito molto è quando nel film quando a un certo punto lui sente l'odore del gas e lo ricerca attivamente all'inizio no poi solo alla fine si capisce che era questo gas che aveva ammazzato la la madre ecco eh l'odore come un senso attivato no per riconoscere l'oggetto eh d'amore nella funcionalità questo però questo mi è sembrato più una struttura nevrotica perché mi ha fatto pensare appena non ho visto eh a Proust ai cornetti quando lui girava no? per le strade eh sentiva l'odore dei cornetti come a ricordargli la madre ecco probabilmente non lo so se è possibile che eh prima che si scinda definitivamente l'oggetto alcune eh rimanenze no? anche conflittuali su base nevrotica possono essere vive no? anche nel bambino come nel libro profumo la stessa cosa mi fa pensare che sono rimaste vive in lui certe stimolazioni olfattive potenti ma il libro il libro il film mi sembra molto potente perché a pensarci bene tutto quello che accade sembra vero sembra vero sembra vero eh devo dire la verità che a un certo momento io ho avuto un po' un piccolo abbiocco mi sono persa un pezzetto del film eh quando la madre è morta quando hanno nella fantasia del bambino la madre è stata uccisa e quindi ho avuto anche un po' difficoltà a mettermi in linea fra la fantasia del bambino e la realtà e adesso che ne stiamo parlando mi risulta ancora più chiaro quanto questa fantasia del piccolo spider era così potente da costruire una ragnatela di significati molto contraddittori tra di loro però da sembrare veri ed è questa poi la caratteristica dei pazienti psicotici che sembra vero quello che loro affermano è comunque vero per loro è vero qualche commentino un po' a giro così di quello che avete detto il film mette molto in risalto l'autismo del paziente psicotico questi dettagli è un film di dettagli ci sono pochi personaggi sempre gli stessi chiusi nella casa nel bar nel manicomio diciamo questa struttura è un po' un manicomio siamo negli anni cinquanta quindi ci sono ancora i manicomi il borbottare le finestre chiuse che diceva Anna e lì credo che il regista abbia proprio voluto il borbottare che c'è in queste persone questo borbottare un po' masturbatorio che non è un parlare con l'altro è un borbottare le finestre chiuse penso che il regista abbia proprio voluto dare l'idea dell'autismo infatti Freud le chiama nevrosi narcisistiche per rifarci alla teoria cioè tutto è autoriferito il padre tenta di parlargli nelle poche scene lo spettatore è un po' confuso tra quando il bambino immagina e quando il padre in quella scena realmente gli parla ma cos'hai contro di noi cosa ti abbiamo fatto lì lo spettatore non capisce bene se non alla fine un po' in aprecu di cosa si sta parlando lì il padre gli sta parlando nella realtà ma perché ce l'hai con noi noi intende io e la mamma reale la madre oggetto intero però il bambino è preso nella sua nel suo mondo autistico di fantasie ma di fantasie autistiche non è più un rapporto nel momento in cui li ha visti abbracciati dalla finestra lui che vuole la madre tutto per sé e non non in questo edipo psicotico perché è un edipo psicotico naturalmente non vuole il padre come rivale il suo è un mondo autistico quindi questi dettagli rendono molto bene anche il paesino così desolato la mancanza di amichetti e di amici un bambino che non va a scuola che non isolato ecco le finestre chiuse sì questo gas dotto che incombe mi pare che renda molto bene l'autismo del bambino psicotico ecco ma appunto che non è un dato ambientale lì la scelta registica è di enfatizzare il mondo psicotico mi pare proprio un aspetto appunto interiore poi tutti avete sottolineato sì anche il titolo lo dice spider la rete lo spago che anche i vostri pazienti vi ricordano anch'io io non seguo bambini però una paziente adulta che è una nonna a volte mi porta a vedere i disegni di un suo nipotino che le sta molto a cuore che non è uno psicotico però è un bimbo difficile è una signora così in psicoterapia fa dei colloqui e questi disegni hanno spesso anche lì spaghi rete quindi è una cosa molto frequente quindi mi chiedo se hanno un simbolismo o no se dobbiamo dare sempre un significato come nel film anche se hanno un significato o se appunto in questi soggetti autistici un po' ossessivi è un rituale in sé è un rituale che riempie è un rituale che ha la funzione di riempire un po' coattivo ecco un po' ecco oppure se è un po' un nostro bisogno quello di di dare un significato di significare abbiamo un po' la tendenza il bisogno ecco un po' noi esseri umani di significare di rappresentare e forse anche una parte più sana di questi pazienti ce l'hanno ma non tutto loro stessi non lo so me lo chiedo ecco visto la ripetitività di questo fare spaghi di righe di riempire allora forse va al di là del significato forse è rituale in sé forse è segno ecco più che significato mi chiedo perché quando è così frequente allora va al di là della singolarità va al di là della soggettività i pazienti autistici anche i bambini autistici hanno cose che si ripetono come i dondolamenti questi gesti chi li segue chi se ne occupa sa che ci sono queste cose che si rintracciano quindi questo fatto che sia così frequente fa pensare appunto a qualche cosa che risponde più a un bisogno di di una compulsività quasi ossessiva che non piuttosto ha un bisogno di significare di rappresentare ecco poi a chi mi chiedeva di quel mio paziente così lontano perché qua in tutti noi almeno gli psichiatri o chi ha fatto tirocini psichiatrici ha attivato questo film Ricordi Antichi dunque lo zio avevo ricostruito ma ce l'ho ben presente nella mia mente questa persona che è un po' una storia alla Schreber cioè l'esordio psicotico era a mio avviso e poi l'avevo inviato per i farmaci da un collega psichiatra con un collega psichiatra come me che gli dava i farmaci verso cui il paziente era molto molto sospettoso però siamo riusciti a farglieli prendere la coppia diciamo ha funzionato bene e sì a mio avviso questo paziente che detestava il padre detestava entrambi i genitori però sommerso in questo odio un po' come Schreber che Schreber detestava e ammirava però anche il padre questo paziente no detestava e basta ma è un padre moderno questo è un padre contemporaneo quindi è un padre debole dentro una dentro un edipo debole probabilmente aveva un edipo negativo anche lui con una impostazione omosessuale andando a New York entrò in contatto troppo stretto con questo zio molto stimato molto amato un po' come dottor Fleshy in più questo si era caricato con gli eccitamenti dovuti ai corteggiamenti avuti con il inquilino e forse anche altri essendo un ragazzo molto bello e con tutte le stimolazioni rispetto a Genova che aveva avuto a New York quindi la metropoli con tanti contatti con tante e questo aveva fatto esplodere la sua il suo complesso omosessuale che da lì poi non si è più fermato tutti diventarono persecutori compreso lo psichiatra ma poi con le terapie farmacologiche era molto rientrato quindi lo zio era stato un po' il dottor Fleshy ecco ma il complesso omosessuale erotico o eroginario ipotizzo che fosse stato anche per lui il padre però molto spostato su questo zio e sui contatti eccitatori che aveva avuto con i primi corteggiatori in questa città poi si è tutto espanso in particolare alle forze dell'ordine per molti anni i suoi persecutori erano rimasti soprattutto i poliziotti fino anche ad anni recenti l'ho seguito per molto tempo in maniera molto più blanda erano rimasti sempre per lui i poliziotti chi portava una divisa ecco chi portava una divisa però essendo appunto una forma paranoica in senso stretto appunto come come Schreber se l'è cavata piuttosto bene non è certo un caso come quello del film una schizofrenia appunto così simpe indifferenziata se l'è cavata piuttosto bene poi ho avuto un altro solo per dei colloqui non l'avevo preso ecco non me l'ero sentita così anche quello un paranoico vero e proprio appunto ne capitano più raramente oggi perché anche quello risentì molto bene dei farmaci e ha mantenuto il lavoro con persecuzioni circoscritte sporadiche vicini di casa in particolare un vicino di casa rapporti molto conflittuali con le donne quindi soggetti un po' così è più preoccupante oggi l'aspetto sociale secondo me che non questi singoli pazienti paranoici alla Schreber quelli sono ben trattati appunto dalla terapia farmacologica magari appunto in collegamento con psicoterapia psicoanalitiche un buon rapporto con uno psichiatra Rossella a me sembra che il presidente Schreber a me mi ha sempre fatto molta simpatia questo caso nonostra vero nonostra che sia un grave insomma un caso molto grave mi sono sempre chiesta se era perché poi Freud ha saputo scrivere di lui in maniera così narrativa che ci ha conquistati però fra tutti i casi freudiani il presidente Schreber mi ha fatto avrei voluto conoscerlo un magistrato un uomo di legge che nutre questi pensieri così scabrosi indicibili e anche che riesce poi comunque ad uscire da questa situazione e mi sono sempre chiesta quanto la scrittura e perché lui ha scritto le memorie abbia potuto aiutarlo a tirarsi fuori da quella circostanza così difficile e come anche momentaneamente perché poi è crollato è crollato e pazienza e vabbè sì però con la morte della moglie con la morte della moglie poi è crollato però l'ha aiutato momentaneamente c'è qualcosa di molto umano in questa persona ecco che anche nella trasgressione in questo in queste fantasie così cruente della sodomizzazione in cui c'entra il medico Dio comunque potrebbe essere un paziente ostico però però c'è qualche cosa che lo rende affettivo non so sì sì certo certo sì sì certo è comunque stato un uomo che ha lavorato tutta la vita si è sposato sì forse anche perché stavo pensando anche al piccolo Hans anche quel quello è un caso delizioso perché anche lì c'è un racconto viene raccontato da Freud per cui può darsi che c'è anche questo passaggio che rende il caso così delizioso quasi dire spilizioso c'è una persona sentiamo sul film allora io sono rimasta molto atturbata dal film devo dire perché continuavo a pensare ma chissà che vita ha fatto da quando c'è stata questa uccisione o comunque questa fantasia della morte della madre a quando è diventato grande e mi sono a un certo punto messa a guardare le varie trame su internet del film per vedere se potevo capire qualcosa in più e ne ho viste alcune che dicevano che lui dal manicomio era passato in questa casa dove che era una sorta di casa di reinserimento per persone che stavano un po' meglio che era proprio vicina a casa sua e da lì scaturiscono tutti i ricordi però non so è come se avessi avuto bisogno di mettere delle cose di come dire di mettere dei puntelli perché in questa schizofrenia così a pezzi avevo bisogno come di un contenitore più del filo dello spider e poi mi ha colpito ma mi sono ricordata insomma non anch'io sono ricordata di un paziente che avevo seguito oltre vent'anni fa che era un giudice e io in quel periodo 25 anni fa facevo anche le diagnosi dentro una clinica psichiatrica e che aveva avuto appunto inizialmente sembravano più aspetti paranoidei che poi invece piano piano sono diventati uno stato paranoico piuttosto avanzato che poi ho rincontrato dopo un po' di anni aveva fatto una terapia farmacologica e ho incontrato in un bar e mi disse lei mi ha come cioè la scoperta della diagnosi è come se mi avesse ucciso perché poi mi hanno sospeso dal tribunale non ho potuto fare più il giudice e adesso sono qui cioè come se uccidendo la fantasia avessi ucciso anche tutti quei pezzetti che potevano tenerlo intero ecco ho fatto questo paragone rispetto al film come se dentro una progressione il controllo non c'è più insomma il controllo paranoico non c'è più ecco non c'è più posso io ho avuto un bambino in cura con mutismo elettivo e aveva questo sintomo di fare delle linee linee che non si potevano attraversare poi non parlavo naturalmente a un certo punto non so com'è che è successo che ho detto una cosa adesso non mi ricordo cosa però mi ricordo che si mise a ridere una risata cristallina che mi meravigliò moltissimo da allora cominciò a parlare poco poco e l'altra cosa che mi viene in mente è appunto questa mancanza del senso dell'umorismo assolutamente ma anche dell'attrazione che il film procura come tutti i casi paranoici della serie chissà come va a finire e mi veniva in mente sempre riguardo alle due qualità un'altra osservazione è sicuramente è un problema edipico non lo diremmo così però è anche un problema di qualità cioè è come se le due cose dovessero andare di pari passo cioè la distinzione tra femminile e maschile è come se delle volte sottosta o sovrasta la dimensione dell'oggetto buono e cattivo cioè la scissione dell'oggetto è su due piani non è solo su un piano allora nel film quando lui quando noi rinsaviamo a vedere il film perché lo spettatore comprende che è la madre quando torna a essere l'attrice con la forma originaria come se il film facesse una specie di regista fa una specie di giro di chiusura facendo vedere l'attrice nella sua forma quando era la madre buona quando era la madre che faceva la culla e che teneva i fili allora mi chiedevo quanto la mancanza del senso dell'umorismo e la mancanza della distinzione tra femminile e maschile non avesse condotto questo bambino a considerare concretamente gli accadimenti e i fatti affettivi e emotivi come reali troppo forse non mi sono spiegato bene comunque ci ho provato no no io ho capito vuoi aggiungere Rossella vuoi aggiungere un commento a questo di Anna Paola cioè il bambino psicotico perché parliamo di un bambino psicotico prende in concreto mancanza del senso dell'umorismo cioè intende dire la collega che il bambino diciamo normale tutti noi avrebbe affrontato il fatto che c'è una coppia da cui è escluso è necessariamente escluso il senso dell'umorismo intende come dire che necessariamente c'è una perdita devi rinunciare a entrare in quella coppia lì sì sì ma lui invece ci sta facendo la culla che diceva la collega la culla con gli spaghi quello è un gioco di bambini che si si era impedita era impedita la trasformazione perché quel gioco lì con le mani con lo spago si fanno le culle le farfalle ci sono varie figure invece nel film è bloccato cioè nel senso che la capacità simbolica come dire si era bloccata però questo ci attrae come dire ha una forma attrattiva rende il pensiero reale concreto ecco non è un piccolo erst diciamo non è un bambino che gioca esatto sì non è un bambino che gioca perché la tela che lui tesse continuamente non è un gioco è un rituale ossessivo per questo come dicevo mi chiedevo prima cercare significati a questa tela a questo spago ecco sì ora mi viene in mente appunto il gioco del piccolo erst che pur ha soltanto è molto più piccolo mi pare che il piccolo erst abbia un anno e otto mesi che inventa il gioco che è un pilastro della psicanalisi e quindi elabora la perdita e padroneggia l'assenza spider è completamente mancante in questo è un fallimento del padroneggiare la perdita da lì nasce la psicosi l'assenza del simbolico lui è costretto a sostituire la madre buona con la madre cattiva e addirittura poi la terza donna sta per uccidere quasi la padrona la direttrice della locanda cioè è prigioniero la rete forse può rappresentare se vogliamo la coazione a ripetere è prigioniero della rete della ripetizione perché quando nella scena finale che cosa hai fatto e gli dicono sei pronto a tornare forse sta a indicare che stava per uccidere nuovamente la proprietaria della della casa di recupero nella quale aveva rivisto nuovamente la madre sì è molto interessante soprattutto leggendolo oggi con tutti i fenomeni che riguardano le uccisioni delle donne come andiamo sul genere tra maschile e femminile ma non andiamo sulla qualità non andiamo sul buono e cattivo il film ci propone la qualità dell'oggetto oltre che il genere io buona buonasera a tutti mi mi chiedevo questo quale quale terapia per questo paziente nel 2022 ovvero potessimo avessimo avuto l'occasione di incontrarlo forse in una delle tante strutture o in uno studio potremmo pensare di provare a integrare queste immagini potremmo pensare di interpretare qualcosa potremmo pensare di fare del sostegno cosa potremmo pensare di fare noi psicoterapeuti psicoanalisti psicodinamici e e poi niente volevo solo dire che a me ha fatto venire in mente ho notato che il l'attore che recita la parte del padre non so se l'avete visto ma è lo psicanalista di treatment che a me era piaciuto moltissimo e quindi rivederlo in questa veste solo alla fine quando parla al bambino in modo amorevole in quella stanza in quella stanza in quella casupola mi ha fatto rivenire in mente ho rivisto quell'analista che si confrontava con i vari i vari pazienti nella versione quella americana ecco un'ultima un'ultimissima considerazione mi è persa molto interessante la scelta cinematografica di mostrare lui adulto che assieme a lui bambino nei ricordi in molte scene ci sono tutti e due e non so cosa ne pensate l'ho voluto interpretare come l'idea che qualunque evento viene poi rivisto con gli occhi dell'età in cui siamo e e forse quindi anche rivisto rinarrato riletto però ecco non lo so non spunto così grazie sì sull'attore sono d'accordo è Adrian Byrne anche a me piace molto sì nella scissione dell'oggetto lui scinde anche il padre in buone cattivo nella maggior parte del film si vede la parte del padre cattivo della sua fantasia in realtà è un buon padre poveretto questo qua sì sì l'attore anche a me piace molto ecco la terapia oggi non so cosa ne pensate sarebbe un paziente prevalentemente credo da comunità terapeutica uno schizofrenico grave a rischio di far del male ai genitori alla madre sarebbe un paziente tipico da terapia integrata farmacoterapia di cui risentirebbe positivamente e è una colloqui psicoterapici finché resiste una psichiatria psicoanalitica fortemente a rischio oggi fortemente a rischio sta sparendo una psichiatria psicoanalitica nei servizi e nei reparti psichiatrici forse un paziente così oggi non lo incontreremo perché questa è una visione un po' più ottimistica perché magari la psicoanalisi infantile sarebbe stata prima cioè un bambino così sarebbe andato prima a farsi curare avrebbe potuto avere un appoggio magari non sarebbe guarito però probabilmente avrebbe avuto un aiuto strutturale tale che magari non sarebbe arrivato a questo degrado a questa consunzione mentale perché la psicoanalisi infantile ha lavorato tanto e continua ad aiutare moltissimi casi che potrebbero avere un esito più disastroso sì questa è un'altra opzione più ottimistica sì oppure l'altra è quella di un esordio adolescenziale tipico con una presa in carico del servizio di una comunità sì ci sono adesso delle possibilità che magari prima erano meno tutte le comunità il compagno adulto nel caso degli adolescenti le psicoterapie insomma ma anche sotto le cure come dire l'universo fantasmatico resta lo stesso sia di Schreber che di questo paziente ecco credo che questi film e il memoriale rappresentino delle verità che non cambiano a livello fantasmatico sì però magari possono essere più possono avvantaggiare di più delle cure precoci certo 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 qui quello che è interessante vedere a parte la finezza del film i dettagli è proprio il fallimento del simbolico come la mente psicotica anche in presenza appunto di un buon ambiente è una famiglia modesta povera un paese povero però c'è una famiglia amorevole non riesce a simbolizzare la perdita non crea il forte da appunto non gioca allora io lavoro in un servizio psichiatrico e devo dire che di paziente ancora molto gravi se ne vedono tanti e alle volte arrivano anche situazioni ci si chiede come mai ancor più nelle comunità terapeutiche ancor più nei centri diurni la mia domanda era più relativa al ma ovviamente con questa carenza di simbolico con questa con questi gravi deficit possiamo fare del sostegno non non si può immaginare di fare altro fare di più oltre ovviamente alla terapia farmacologica voi cosa fate nella vostra esperienza cosa ne pensate dico a lei proprio a lei a me sì allora io come come psicologa lavorando nel nel centro di salute mentale territoriale devo dire non ho occasione di vedere i casi più gravi quando capitano talvolta capitano seguiti in integrazione magari con lo psichiatra e la terapia farmacologica effettivamente non oso far altro che un sostegno ma alle volte tentare anche qualche interpretazione caso mai pur lasciandola cadere nel vuoto ma del tipo appunto mi sembra che lei avesse due modi di vedere sua mamma dico per di cioè un un tentativo di interpretazione a mio parere non non va mai evitato però è chiaro che prevalentemente si fa del sostegno si cerca di fare un monitoraggio della situazione per evitare per valutare eventuali nuovi scompensi e si fa quel che si può ecco tutto qua insomma eh ma questa 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 visione secondo me è una visione una buonissima visione cioè si fa quel che si può appunto si aiuta la persona per come lui ha bisogno di essere aiutato perché a volte c'è questo questo dimore che siccome la terapia psicoanalitica non può essere utilizzata per i pazienti allora i pazienti sono irrecuperabili oppure appunto non c'è questo stato di depressione anche del terapeuta o dell'operatore per cui tutto viene visto in una visione più dichilista e anche il paziente stesso io credo che invece noi dovremmo fare quello che ha bisogno di cui ha bisogno il paziente semplicemente se poi ci possiamo mettere dentro qualcosa di psicoanalitico ci fa piacere ci divertiamo anche quello che facciamo sempre ma se non si può questo non significa che il paziente non può essere curato o che sia un caso disperato io penso sempre che se no diventa sempre questa idealizzazione della teoria psicoanalitica che va a svantaggio delle persone che curiamo che dovremmo curare sembra un paradosso però idealizzando la teoria psicoanalitica se questa non funziona allora lo svantaggio è del paziente che non è riuscito allora è grave allora non credo che le cose debbano funzionare così penso che bisogna offrire quello di cui lui ha bisogno semplicemente con speranza con fiducia con gioia non so come dire con tranquillità nelle strutture residenziali si prediligono ovviamente psicologi ad indirizzo cognitivista per le possibilità diciamo riabilitative che paiono insite in quell'approccio devo dire che quando i pazienti capitano a noi al servizio a me in particolar modo a mio parere anche la capacità di comprensione della situazione che ci dà l'approccio psicodinamico aiuta a comprendere il paziente di conseguenza pur facendo anche solo interventi di sostegno a raggiungerlo in qualche modo ecco però effettivamente nei servizi pubblici si predilige l'altro approccio per situazioni gravi posso intervenire un attimo non trovo la manina quindi dunque vabbè io non so sono quasi sicura che è una mia forzatura nel film però la dico insomma butto là cioè ho avuto l'impressione nelle scene finali che il regista volesse lasciare aperto un discorso perché l'ultima parte e quindi allora la lettura è che tutto questo è un inizio di un percorso da parte del del personaggio principale insomma perché nell'ultima parte nella ricostruzione dei fatti intanto c'è una ripetizione nel tentativo di ammazzare la donna però è fermo lui e poi nella ricostruzione oltre a sentire il padre che dice hai ammazzato tua madre quindi questa è una sua ricostruzione quasi un ritiro della proiezione lui vede la madre lì allora mi chiedevo se nella fase finale no quanto è nell'auto e lo psichiatra gli dice sei pronto per tornare non si potesse trattare di un ritorno diverso e quindi di un inizio poi perché tutta quella scena mi sembrava un po' un ritiro e la proiezione ora questo può esserci stato per un attimo e poi tutto torna come prima ma possiamo anche pensare che può essere un attimo in cui c'è un'evoluzione che questo è un nuovo percorso quel ritorno nell'ospedale psichiatrico è una domanda mi veniva così come è un film misterioso è questo quindi su questi film misteriosi a volte ci sono dei dibattiti online e qualcuno propone delle teorie anche diverse come questa che sta dicendo lei per cui è possibile anche questo ritiro della proiezione a me personalmente non sembra a me pare che ci sia quella linearità un po' che abbiamo detto però è anche possibile perché è un film misterioso è così intricato dentro la mente del protagonista con questo elemento del ricordo che secondo me è importante la costruzione freudiana del ricordo il filo di questi seminari il fil rouge è Freud e davvero sono freudiani questi film cioè i registi non so se lo sanno ma penso di sì perché i registi sono colti in questa sì in queste nella psicanalisi ecco è davvero è molto freudiana questa costruzione del ricordo lui è lì a vedere se stesso bambino e chissà cosa è vero e cosa è no lo spettatore è davvero frastornato in questo gioco della memoria quindi è possibile anche quello che dice lei davvero davvero tutto possibile questa frase un po' sibillina finale dello psichiatra sei pronto a tornare è abbastanza è abbastanza aperta sì io l'ho interpretata un po' così che lui ha fatto un ulteriore tentativo di uccisione avendo visto l'immago materna di nuovo proiettata perché non se ne libera mai Spider dell'immagine della madre forse non se libererà mai e continuerà a vederla continuamente nelle donne importanti che detengono il potere questa volta è la direttrice della pensione lì del posto un'eterna coazione a ripetere forse forse e quindi di nuovo ha tentato un omicidio e torna di nuovo nella nella casa di riabilitazione sì io l'ho un po' interpretato così a me è sembrato coerente anche con la psicanalisi e con la vita umana di una persona così malata a questo ma può darsi che possa anche essere diverso certamente è un finale misterioso in una storia a suo modo misteriosa questo mi sembrava che nella scena in cui lui vede per la prima volta vede il volto della madre della madre buona diciamo così no e non dell'altra morta a terra questo mi ha lasciato insomma un po' perplessa mi ha lasciato pensare a un minimo di un percorso di apertura verso altro indefinito insomma no e questa è la speranza dei terapeuti può darsi può darsi anche quello che dicevi tu no si fa quel che si può non puoi lasciare che poi si fa quel che si può sì sicuramente però dico noi abbiamo la nostra formazione ci ha dato questa possibilità di leggere anche attraverso quello che i pazienti ci portano no e quindi anche se non possiamo restituire in maniera interpretativa però quello che noi riceviamo in qualche modo anche indirizza il sostegno in un certo modo non sarà un sostegno cognitivo o pedagogico sarà un sostegno di tipo analitico anche se non facciamo un'interpretazione certo 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 abbiamo sempre un setting mentale di un certo tipo anche vedendo un film scusate una domanda posso prego io no mi è rimasto un po' questo perversità ci ho seguito il discorso della dottoressa Valdre ma non ho capito bene qual è la differenza fra il caso per esempio un caso come quello del presidente Cereper e un caso come quello di Spider sono molto diversi cioè molto diversi sul piano psichiatrico sono proprio due diagnosi diverse il presidente Schreber Freud lo dice bene se legge il presidente Schreber nel capitolo terzo o nel prologo non ricordo specifica bene Freud è anche un eccellente psichiatra è un urologo non c'era la psichiatria all'epoca specifica bene che il presidente Schreber è una psicosi paranoide o una schizofrenia paranoide cioè un gruppo come tutt'oggi nel DSM non è cambiata questa cosa qui come anche Breuler aveva descritto cioè quel sottogruppo di schizofrenia e di psicosi ha prognosi migliore ha esordio più tardivo con un delirio strutturato che protegge il paziente con una forma appunto di autocura e con prognosi migliore e tutt'oggi è così anche curandole queste forme hanno un'evoluzione migliore come quel mio vecchio paziente che esordì appunto a New York queste forme hanno sovente come Freud ha scoperto se le indaghiamo sul piano psicoanalitico ma a volte non è difficile scoprirlo un nucleo psicopatogenetico inconscio che deriva da un'omosessualità inconscia in conflitto con l'io in conflitto con la personalità il caso di spider è miseramente un caso di schizofrenia che ai tempi di spider si chiamava simplex oggi il DSM mi pare che la classifichi come indifferenziata cioè quei casi a esordio precoce adolescenziale giovanissima età prognosi in fausta casi che migliorano con i farmaci impoverimento precoce della personalità deliri disorganizzati ci può essere persecuzione anche qua e c'è nel film lui ritiene colpevole il padre infatti però non è un delirio organizzato di grandezza mistico o composito come quello di personaggi persecutori come Schreeder e non c'è non c'è non c'è quasi mai una paranoia a etiopatogenesi omosessuale inconscia io lo amo no io non lo amo allora io lo odio lui mi odia con quello schema così preciso come in Schreber Freud specifica nel testo nel saggio su Schreber che le schizofrenie di quest'altro tipo hanno una regressione narcisistica più grave e più profonda cioè sono più gravi insomma la famiglia è la stessa il gruppo il sottogruppo paranoicale come Schreber è un po' meno grave più trattabile sul piano psicoanalitico sono più capaci di investire sugli oggetti e quindi anche di essere sensibili al trattamento psicoanalitico grazie bene io vedo che sono le sette passate quindi se c'è qualche altro intervento qualcun altro che vuole intervenire altrimenti ci salutiamo bene allora Rossella intanto grazie perché al solito abbiamo passato un bel pomeriggio carico diciamo carico e grazie a tutti che siete intervenuti e ci vediamo il 30 l'ultimo l'ultimo incontro sarà il 30 con il perturbante un altro bel tema che te la ci racconterà un'ultima cosa volevo dire ai nostri dilucinanti ho detto l'altra volta durante il mio seminario che bisognava imparare a raccontare le cose non so se vi ricordate a proposito del report di come fare il report ecco ascoltando la dottoressa Valdre è proprio un esempio di come si debba raccontare perché è un racconto analitico che parte sicuramente dalla conoscenza della teoria però poi mette dentro anche degli aspetti emotivi affettivi conosciuti lo fa proprio lo fa proprio ecco il caso lo fa proprio e questo poi diventa molto contagioso perché chi l'ascolta ha la possibilità di creare nuove immagini fare nuovi pensieri questo che vi volevo dire quando ho detto raccontate le cose che sentite non le non fate un copia e incolla non fate un riassunto come si fa di solito all'università raccontatele le cose e questo è un buonissimo esercizio che servirà sempre quando ci si approccia a questa a questi temi bene grazie a tutti ora buona domenica buona serata buona serata buona serata ciao arrivederci ciao arrivederci buona serata grazie ciao 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 arrivederci ciao